Ci vorrei venire questa mattina? Allora, io volevo solo dirvi, fare un appunto su Chioggia, che io ne sono innamorata. L'anno scorso ho avuto l'opportunità di poterci vivere cinque mesi e osservavo Riva Venema, a corso del popolo, qualsiasi punto di Chioggia che piuttosto di osservare la bellezza del sopra, di ammirare questi palazzi, la storia, devo preoccuparmi di guardare per terra e questo è veramente… È troppo vero, però ci sono anche tanti, tanti cari che puliscono, però non tutti. Io ho avuto anch'io cani, rispetto personalmente chi ha il cane perché è giusto averlo. Si gira, io propongo o suggerisco, ma poi ognuno fa quel che sente, di usare anche una bottiglietta, no? E di avere un senso civile perché è veramente un peccato vedere e non avere la possibilità di osservare il bello di questa città che è fantastica, non parlo solo delle persone che abitano qui, ma anche del turismo, non è che solo quello di Chioggia ha cattive abitudini. Quindi, un suggerimento, apprezzate la bellezza a 360 gradi con senso civile rispetto degli altri. Grazie carissima, grazie. Prego. Allora, siamo alla Camm, la pescina della Camm. La novità è sulle ostiche, praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere da immagine, costa 15 euro al chivo, sono una decina di ostiche, il prezzo è buono e sono veramente ottimi, una novità tecnologica, aprire l'ostica che non è, diciamo, facilissimo, queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non ha nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostica.